Grazie Presidente, velocemente l'ordine del giorno che ho presentato riguarda l'indirizzo che è connesso poi anche agli obiettivi che sono stati già formulati all'interno del documento unico di programmazione e che va nella direzione sulla quale l'aula si era già in parte espressa recentemente con la deliberazione d'Assemblea Capitolina di qualche giorno fa legata alle petizioni elettroniche consentendo la pubblicazione sull'home page del portale istituzionale di Roma Capitale di quello che è il pulsante o comunque delle informazioni necessarie per la sezione partecipa. Diverso tempo fa abbiamo anche approvato una deliberazione che andava in questo senso, questo è sicuramente un obiettivo in più, un indirizzo in più che va nella direzione già intrapesa e della quale ringrazio anche gli altri colleghi dell'altro nuovo proposto che si inserisce certamente nelle azioni che si stanno portando avanti e quindi voteremo a favore. Si tratta insomma ecco di un punto sul quale c'eravamo anche presi l'impegno di presentarlo e quindi insomma in questo senso penso di aver esaurito l'illustrazione. Grazie.